A Palazzo Chigi si è appena concluso il vertice straordinario del governo sulla TAV. Allora ci colleghiamo subito in diretta con Ida Colucci, a te. Sì, buonasera. E dunque Monti l'aveva in parte già annunciato sulla TAV, aveva detto si va avanti. E dopo la riunione con un comitato ristretto formato da ministri e con il commissario tecnico all'alta velocità a Virano annuncia il sì all'opera, il sì del governo all'opera, e dice un elemento di congiunzione anche fisico all'Europa ed è un elemento di sviluppo per le nuove generazioni. Il sì arriva, dice Monti, dopo un attento riesame fatto con spirito aperto e dopo un'attenta valutazione dell'impatto ambientale. Ascoltiamo il Presidente del Consiglio. Il governo ha deciso di confermare con piena convinzione il proprio impegno per la realizzazione tempestiva dell'opera. Ci sono state, in particolare nei giorni scorsi, manifestazioni di protesta con forme di violenza. A questo riguardo vorrei essere molto chiaro. La libertà di espressione del pensiero è un bene fondamentale. Lo Stato è impegnato a tutelare questo bene. Non saranno però consentite forme di illegalità e sarà contrastata ogni forma di violenza. Tutto questo poco fa a Roma. Intanto è stata una giornata tranquilla in Val di Susa. C'è grande attesa per l'assemblea dei Notav prevista per questa sera a Bussoleno. Ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con l'inviato Fabio Chiucconi. Fabio, a te. Esattamente, attesa per questa assemblea dopo le notizie che sono appena arrivate da Roma. Assemblea nella quale ieri sera dopo l'incontro di piazza sono partiti due cortei che hanno bloccato la Torino-Bardonecchia. Dunque bisognerà vedere cosa accade questa sera. Sono i flash mob, le azioni improvvise, rapide, di disturbo che stanno mettendo in atto in questi giorni in Ottav. Come quello segnalato in centro a Torino, un corteo in direzione della tangenziale. Ma sono le azioni dei violenti che preoccupano l'ala moderata del movimento che ha espresso oggi solidarietà per il cino-operatore che lavora per la RAI, Stefano Rogliatti, aggredito ieri sera. Gli volevano strappare la telecamera. La notizia di questa mattina è che Luca Abba è fuori pericolo, l'attivista che si è arrampicato su un traliccio e che era caduto lunedì scorso. Ma se c'è una valle che appoggia la protesta, che è d'accordo con i Notav su questi blocchi stradali, ce n'è un'altra che però è contraria a tutto questo. È la valle degli imprenditori, degli albergatori. E nel reportage di oggi vi raccontiamo, vi facciamo sentire le loro voci. Può partire il servizio. Sta crescendo la volontà di dire basta a questa cosa nell'Alta Valle. È l'altra valle di Susa che vi raccontiamo questa sera, quella degli albergatori e degli imprenditori che dicono basta ai blocchi stradali. Il sindaco di Saus ed Ux è preoccupato per il calo dei turisti dell'ultima settimana a meno 40% di presenze. I sciatori ci arrivano da mezza Europa. Le disdette arrivano principalmente dal mercato straniero. Gli stranieri non riescono a comprendere esattamente cosa stia succedendo. Nel momento in cui sentono che forse il loro tragitto da Torino-Caselle all'Alta Valle, che sarebbe a 50 minuti, rischia di trasformarsi in un'odissea da 4-5 ore, certamente disdicono e vanno in altre location europee. Quelli che incontriamo dicono di non essere troppo preoccupati. Sulle piste di sci aggiungono non ci sono problemi. Poi ci spostiamo a Bardonecchia, altra storica località scistica della Val di Susa. Anche il presidente della Federal Berghi si dice contrario ai blocchi stradali che di fatto impediscono alla valle di lavorare, in una situazione economica già difficile. Come cappello di tutta questa cosa è l'immagine che comincerà ad avere l'Alta Valle, un'immagine di una valle insicura che rimarrà poi nel tempo. I primi cittadini ed imprenditori stanno pensando ad una class action, un'azione legale, non sanno se contro in Ottavio o contro le istituzioni che non hanno garantito la sicurezza. E a lavori partiti chiedono aiuti concreti. Noi proponiamo ad esempio di chiedere che lo Stato riconosca la Cassa Integrazione a tutte le imprese che operano sul nostro territorio, seppur piccole. Ogni weekend perso sono milioni di euro persi sia nel reddito locale che in quello che è finanza pubblica, quindi IVA, IRAP, eccetera.